Cosa abbiamo, Eric? Tenente Brian Roth, volato giù in auto da una collina stamattina presto con due proiettili in corpo. Per i testimoni era ancora vivo quando l'auto è andata giù, ma... Ora non lo è più. L'auto non era sua. Di chi era? Una certa Aubrey Darva. La famosa Aubrey Darva? È una delle ragazze più in vista e mondane dell'alta società, un misto fra Paris Hilton e Kim Kardashian. Foto sulla destra, scattata ieri sera, era su internet. Famosa per essere famosa. Questa è Los Angeles. Il fatto è che non andrebbe mai in giro con uno qualunque. Forse lui le ha rubato l'auto. Furto denunciato? No, non ancora. Era primo del suo corso e ha anche ricevuto numerosi encomi. Non era uno qualunque. Per lei sì, con tutto il rispetto per lui. Ma andiamo sul posto a vedere come stanno le cose. Abbiamo un agente di collegamento con la polizia. Già. Buon per voi. Stiamo procedendo al recupero dell'auto. Informaci appena eseguito. Ok, Ieri. Avvertimi appena viene a saperlo. È ora di fare l'agente di collegamento. Potrebbero anche esserci problemi. Cosa aspettate? Auto recuperate? Non muore dalla voglia. Dalla voglia di cosa? Di collegarci. Si dice davvero così? Sì, un agente di collegamento serve a collegare. Comincia a collegarci, allora. Grazie. Sai che diavolo ha? Non lo so. Ha la faccia di un bambino al primo giorno di scuola. Ciao ragazzi, come andiamo? Larisci. Grazie della buona accoglienza. Direi che non gli hanno certo aperto le braccia. Allora? Hanno detto... Forse è meglio che non lo sappiate. È la nostra scena del crimine? Non ho avuto il tempo di chiederlo. Ci penso io. Lavorando sotto copertura ho pestato i cagli a parecchi di quelli indivisi. E vuoi fare l'agente di collegamento? Mi ha richiesto Etty. Grazie. Caso nostro, nostra scena del crimine. Puoi restare anche tu, Diggs. Dato che sei con noi. Cammina, precario.